Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. Le vie della seta, direttrici, commerciali, dalla Cina e verso la Cina, in tutto il mondo. Verso il sud-est del Pacifico, verso l'Australia, verso l'Africa, il continente destinato a diventare il centro per quanto riguarda la demografia mondiale, con una popolazione destinata ad aumentare sempre di più e soprattutto verso l'Europa. In mezzo l'India, la necessità per la Cina di Xi Jinping è quella sostanzialmente di scavalcarla e da qui le relazioni diplomatiche non solo con il Pakistan. Il Pakistan ritenuto fondamentale proprio per permettere quell'unione, quella convergenza di direttrici che vanno sia via terra che via mare e la Cina sta investendo nel contesto del Pakistan proprio per quanto riguarda il contesto delle infrastrutture e della logistica, soprattutto dei trasporti, ferrovie e porti in particolare. Le relazioni col Pakistan però in questo momento stanno mostrando un calo degli investimenti cinesi in quel contesto. Le motivazioni portate da una situazione economica che a livello globale sta mostrando gli effetti anche in Cina, ma soprattutto perché le aziende, le imprese e i lavoratori cinesi sono oggetto di attacchi da parte dei movimenti separatisti dell'esercito di liberazione del Belucistan. Questioni che si legano al particolare contesto geopolitico dell'Asia centrale, ma che mostrano in ogni caso la volontà da parte della Cina di proseguire nel suo percorso allacciandosi anche e soprattutto a quelli che sono i grandi attori nell'ambito internazionale, soprattutto dal punto di vista dell'interscambio commerciale e uno di questi è rappresentato dalla Germania. Il recente viaggio di Olaf Scholz in Cina, l'incontro con Xi Jinping, segue solo di pochi giorni l'incontro al vertice che Xi Jinping ha avuto con Sharif, primo ministro del Pakistan. La volontà da parte della Germania e contemporaneamente della Repubblica Popolare Cinese è quella di andare sostanzialmente in una direzione comune. Non a caso il viaggio di Scholz è stato accompagnato anche da una importante presenza di imprenditori tedeschi interessati soprattutto alle potenzialità del mercato cinese e viceversa nel contesto europeo. E così l'incontro avuto tra Sharif e Xi Jinping che di fatto vuole porre una soluzione, una soluzione proprio a quelle problematiche che il Pakistan sta mostrando in questo momento e che sono sostanzialmente legate al grande debito che ha il Pakistan nei confronti proprio della Repubblica Popolare Cinese. Ben 23 miliardi di dollari e la Cina come detto guarda con grande interesse proprio a quel Pakistan fondamentale per quelle direttrici verso l'Europa e verso la Germania. La Cina quindi si muove, si muove in tutto il mondo, in tutto il contesto, in tutte le direttrici mentre il resto degli attori della politica internazionale grandi o piccole tranne qualche eccezione resta sostanzialmente a guardare. Per oggi questo è tutto.